Gli hanno tagliato le ruote dell'auto e ha ricevuto sul proprio numero whatsapp dei messaggi minatori. L'episodio si è verificato nei confronti di un impiegato di banca di 56 anni di Canicattì. Nei giorni scorsi l'uomo ha denunciato quanto accaduto alla polizia. Il danneggiamento dei due pneumatici sarebbe avvenuto durante le ore serali o notturne. Il 56enne inoltre in passato ha formalizzato la denuncia per minacce ricevute da un numero a lui sconosciuto tramite messaggi whatsapp in cui veniva accusato di avere disturbato alcune ragazze facenti parte di un'agenzia di servizi presumibilmente di natura sessuale. Inoltre sarebbe stato minacciato di morte con chiari riferimenti mafiosi. L'uomo avrebbe dichiarato e ribadito ai poliziotti di non aver frequentato mai case di incontro o appuntamenti. La polizia ha iniziato l'attività investigativa per provare a capire il motivo del danneggiamento delle minacce anche se non sarebbe certo il collegamento fra i due episodi. In questo momento in attesa che le indagini facciano chiarezza l'unica certezza sarebbe che il numero del cellulare da cui è partito il messaggio intimidatorio è intestato a un extracomunitario non residente nell'Agrigentino.